Amici carissimi di Neto e Azzurra, buon giorno e buon sabato a tutti. Dunque, depressione che va, depressione che viene al sud Italia, naturalmente l'Italia resta divisa in due, al sud abbiamo una situazione veramente un po' complessa con fasi di discreto maltempo che stanno procurando ancora delle ottime nivicate e anche delle piogge e mareggiate. In nord Italia, invece, leggermente sotto vento e non viene colpito da questo maltempo. Dunque, si prospettano 48 ore di tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche velatura per il corpo nuvoloso qua e là, qualche piovasco all'altezza di la fascia prealpina, ma nulla di più. Dunque, tutto sommato, stiamo andando incontro a un periodo decisamente migliore con temperature che nel primo pomeriggio tenderanno anche ad aumentare e portarsi tra i 12 e i 14 gradi. Quindi, tutto sommato, un weekend dove si respirerà sicuramente un po' di aria di primavera. Tempo che naturalmente si prospetta tale anche per i prossimi giorni a venire, almeno fino a martedì e mercoledì, dopodiché non ci sentiamo di andare oltre. Quindi, prepariamoci a un weekend tutto sommato buono, temperature minime ancora un pochino basse e ovviamente le temperature rimangono basse per l'effetto dell'aria fredda che è entrata negli giorni scorsi, poi lentamente si alzeranno in un contesto, diciamo, soleggiato o parzialmente nuvoloso. Quindi le gite fuori porta, scusate, possono iniziare e quindi un weekend tutto sommato tranquillo. Dal punto di vista dei venti, i venti si orienteranno appunto a sud-ovest, quindi non più di bora, questi venti appunto continueranno così, almeno per i prossimi giorni, eliminando di fatto l'ultima parte invernale di questo 2018. Quindi buona giornata a tutti, ci sentiamo domani che è domenica. Ciao!